Qual è la statistica ufficiale? Presidente dell'associazione che si occupa di datagov.it, cioè della proposta di apertura dei dati, dei dati della pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni ne hanno infiniti, i centri di ricerca li potrebbero utilizzare seriamente e intensivamente per fornirli alle imprese che potrebbero fare mercato, questo è un buon motivo in un momento in cui il mercato è così debole. E' fantastico considerare quanto sia grande la distanza fra l'utilità, anzi la necessità della statistica ufficiale e l'indifferenza nel migliore dei casi e qualche volta la derisione da parte dell'opinione pubblica, che un po' per trilus, un po' per mancanza di conoscenza specifica tende a sottovalutare la statistica. E invece non si rende conto che senza la statistica non avremmo conoscenza, non avremmo possibilità e capacità di giudizio sulle cose e sugli uomini. E quindi benvengano manifestazioni come queste che tentano, spero con successo, di accrescere la coscienza statistica e la consapevolezza dell'importanza della statistica. E' bello che tutti noi la adoperiamo normalmente senza rendercene conto e invece se ce ne rendessimo conto potremmo, ripeto, giudicare meglio cose, persone, politiche e politici. Rappresento l'iniziativa Spaghetti Open Data, che è un'iniziativa di persone interessate al rilascio di dati pubblici in formato aperto e machine readable. E' un fenomeno tipicamente internet, cioè nel panorama tecnologico e sociale in cui viviamo oggi, la rete, la possibilità di condividere l'informazione genera una domanda di trasparenza sempre più forte e in parte anche sempre più radicale. A questa domanda quindi sarebbe bene, credo, provare a dare risposta con la disponibilità di dati anche statistici, sempre in formato aperto, granulare e machine readable, perché con più dati abbiamo e più storie possiamo costruire, più storie possiamo costruire e più diventa ricco il dibattito attraverso il quale come società ci guidiamo. Mi farebbe molto piacere ricordare come la statistica nasca in qualità di aritmetica politica e di fatto occupi un crocevia straordinario tra la matematica e la filosofia. Di fatto quando i matematici cercavano di dare risposta e spiegare alcuni assiomi non dimostrabili si rivolgevano ai filosofi e i filosofi facevano altrettanto, chiamando in caso i matematici quando non riuscivano a dare risposte. La statistica sta in mezzo, è una scienza affascinante perché poggio sulla logica aristotelica e quindi io la definisco una scienza umana e per questo, come qualcuno ha detto questa mattina, credo, lo stesso Presidente Giovannini è una scienza sexy. È evidente che, come posso dire, per quanto mi riguarda, l'approccio alla statistica è stato un approccio, e soprattutto con l'Istat, e soprattutto con il Presidente Giovannini, è stato un approccio recente, ma proprio perché è nata questa amicizia, è nata da parte mia, è una curiosità molto intensa nel capire esattamente cosa intendiamo, interpretare che cos'è il ruolo della statistica. E al di là dei luoghi comuni, al di là di tutti, diciamo, il senso che è generale, comune, che posso personalmente avere la statistica. Ed è stata proprio, diciamo, questa amicizia che è nata, che ha approfondito in me, come posso dire, l'importanza, il senso profondo di questa lettura di dati. Ma soprattutto è stato l'incontro con il Presidente Giovannini, il quale ha della statistica, ha una volontà di rinnovare profondamente il senso e il significato della statistica. Quando nella sua prolusione dice che l'approccio deve essere un approccio più profondamente culturale, e che la statistica deve essere anche opportunità di visioni, penso che questo sia sicuramente una cosa che interessa a tutti. Ecco allora l'importanza di poter, diciamo, entrare e avere in contatto in un modo diverso, in questo mondo, diciamo, Istat, in questo mondo delle statistiche, proprio per cominciare un dialogo che diventi interpretazione di tutto, diciamo, interpretazione dei linguaggi, interpretazione dei dati, non solamente lettura, ma interpretazione dei dati, che è l'Istat. Per cui questo è il prossimo, il prossimo, diciamo, passaggio. E perciò, per quanto riguarda me, per quanto riguarda l'altriennale di Milano, questo è di estrema importanza, perché avere una interfaccia, oppure instaurare un dialogo su questa interpretazione dei dati, inerente alle tematiche che il triennale sviluppa, è sicuramente fondamentale e sarà motivo degli prossimi incontri. In un mondo dove sempre più forte è l'incertezza, come unica certezza, in un mondo che cambia molto, molto velocemente, la statistica può aiutare a fare delle scelte strategiche e sicuramente può essere considerata una nuova tecnologia. E quindi facilita, migliora, promuove la creatività, perché attraverso l'analisi e attraverso il buonsenso e quindi l'interpretazione è possibile ricavare e creare allo stesso tempo valore per un'impresa, benessere per un territorio, sviluppo economico per un paese e qualità della vita per una persona. Questo credo che, tornando all'antichità, i numeri abbinati alla parola possono dare completezza all'uomo, alla persona, nella sua massima espressione. La statistica ufficiale vuol dire la verità e quando non la si usa, non si usa dire la verità, quando non la si vuole usare si preferisce dire bugie. Ecco perché la statistica ufficiale, quella vera, è così importante.